pronto ma max massimiliano ciao stella ed è un po' che non ci sentiamo stella max perché ridi sei tutto felice cosa c'è max cosa è successo e ti ho capito già dimmi hai visto? ti hanno confermato da capo i pirla sei un volpone tu sei ti stimo tantissimo max allora come è successo? quanti anni? quanti anni ti devono fare? minimo 4 se no tu non accettare 4 anni minimo minimo 4 se no non accetti altri 4 pezzo di merda ma hai calato come prezzo un po'? no sei rimasto sempre qui 9 milioni? no no ma Marco Guardiola li prende più sei un volpone stella grandissimo ah ma stai attento che sono tutti cazzati con te vabbè lo saprai già minacce minacce anche minacce anche minacce ricevute ma tu non mollare tu non devi mollare tu no 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 tieni duro senti dimmi una cosa eh chi c'è lì? chi è che ride lì? chi c'è? chi è quello che sta ridendo? ah è il tuo eco perché e dove cazzo sei? detto la detto la jeep sei ah sei col viva voce ah ecco stella ma no no ma stavo dicendo ma quindi tutto a posto hai rinnovato vero? sai che ti odiano tutti a te? tu no 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 aspetta non offenderti ma tu sarai l'allenatore più odiato della storia del calcio qui stella secondo me sai che ho sentito ho letto dei commenti che dicono io non guardo più la mia Juventus per colpa tua ah 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 mi dispiace ma non seguirò la mia Juve fino alla fine ancora schiudo tu li hai portati finiti questi stella li hai portati finiti proprio questi bravo bene me meritano ma tu non sei Juventino io lo so tu ti fii Empoli eh lo so cosa ti fii Empoli stella stella ti ma tu ti fii Fiorentina lo so stella allora bene dai ingaggio 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 soldini soldini avete parlato già ancora no dai dai sfrango 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 dai dai bravo Max affondami lì affondami ho capito più di questo però dai cazzo affondami affondami ancora di più stella ti raccomando un mercato di merda tutti roti hai visto che ora stanno dicendo dopo sai cosa direte vabbè tu sei la Fiorentina diranno poi che la la Conference League vale quattro Champions dai grazie per per la telefonata ma te avrei chiamato io si stella dai abbracciami abbracciami Pavet Pavet dov'è Pavet ma che fine ha fatto Pavet dov'è Pavet è in Ciocoslovacchia se ne è andato Pavet non lo sai più dove sono oh adesso la Conference forse la giocate perché adesso arriva Ceferin arriva Ceferin arriva Ceferin a te che cazzo sei insolita grazie Max dai ciao ciao e ti fai inter pirra dai ciao felicissimo gliene frega un cazzo a Max vai Max affondali ancora di più